Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Cotte Maxato Dall'ultimo episodio sono passati un paio di giorni, quindi le novità di oggi sono già un pochettino più sostanziose Oggi ragazzi non mi perdo come al solito in chiacchiere, vi lascio subito alla clip e ci becchiamo tra pochissimo Grazie Come avete visto anche in questo video abbiamo fatto un sacco di mura Nell'ultimo episodio abbiamo fatto praticamente questa fetta, mentre in questo episodio abbiamo fatto questa fettona di mura Vi faccio anche vedere qua che ne abbiamo solo più 45 con ben 205 mura fatte al 9, che è una cosa impressionante Anche se diciamo che è abbastanza facile per adesso perché tra poco dovremmo vedercela con le mura al 10 E quelle costano un po' tantino, 3 milioni l'uno E giusto per intenderci il municipio al livello massimo costa 4 milioni Un muro ne costa 3 E' un po' tanto, si direi veramente tanto Soprattutto ho calcolato che sono 250 le mura In ogni caso ragazzi, vi faccio vedere che qua ho startato il re barbaro al 19 Non farò più la regina perché voglio farlo che portare al 20 Almeno ce l'ho con l'abilità di livello più alto Tra l'altro arriverà al livello l'abilità 4 se non sbaglio, si L'ho guardato guardando la regina ma voi fate finta di niente E qua nel laboratorio come vedete Se clicco un tasto giusto ragazzi oggi proprio il dito non c'entra una di icona E ragazzi, come vedete abbiamo le valchiere che tra due ore e mezza finiranno Potrei gemmarle, lo so ma non lo farò E metterò a fare i golem al 4 perché me le avete chiesti E sinceramente anche per le guerre sono una truppa che serve E ho deciso se mettere a fare le streghe Però l'esir nero ne ho e quindi ho deciso di fare i golem Tra l'altro vi faccio notare ragazzi che sono salito di lega Sono in lega, cristallo 1, tra poco passerò a master Perché voglio cercare di scalare per farmare più l'esir nero Infatti sto scalando sì ma utilizzando sempre le truppe che utilizzavo praticamente in argento Se non per il fatto che utilizzo anche i giganti e gli spaccamuro adesso E mi agevolo con qualche pozione come vedete ho delle cure e delle salto Una tra poco finirà quindi attaccherò E ragazzi vi faccio vedere che giusto poco fa prima di aprire la registrazione Ho fatto un attacchino E poco fa, 50 minuti sono già passati Tra montare il green screen e tutto vabbè Vi faccio vedere ragazzi che Questo attacco mi ha portato quasi 250.000 di oro Quasi 340.000 di elisir E 3.000 di nero Qua segna 2.800 Ma in cristallo già c'è un bonus di qualche centinaio di nero Quindi ho fatto un bel attacchino Anzi già che ci sono ve lo mostro E ho trovato questo qua Che tra l'altro poveraccio sembra a me al municipio fuori Sta cercando di fare risorse Però io proprio non ho resistito ragazzi Guardate qua L'ho attaccato E non è che ho fatto un gran macello Avevo anche un po' di coppe tra l'altro Cioè mi ha fatto proprio piacere questo attacco Perché ho visto tutti questi depositi pieni E ho detto non posso non attaccarlo Allora ho fatto l'infame E l'ho attaccato E guardate qua veramente Una tecnica I giganti Gli spaccamure del barbarcher Che nonostante costi poco È micidiale Poi con la regina Anche se è da sola Senza re Da sola guardate Prende tutto il nero Beh andate tranquilla lì L'arquix che li spara Lei Gli prega niente E vabbè ragazzi Guardate qua Abbiamo fatto un 58% Ci ha portato pure quasi 20 coppe Che non è per niente poco Infatti siamo passati Da cristallo 2 a cristallo 1 Grazie a questo attacco Devo dire che La difficoltà che ci è stata più grossa È stata appunto scalare Perché io in genere scalo magari con le mie formazioni Anche con i golem I go wipe Roba grossa Scalare con una formazione per far risorse Non è facile Ci va un po' Bisogna avere pazienza Trovare gente che ha un po' di coppe Un po' di risorse Attaccarle E sperare che quando poi ti riattaccano Non ti succede Quello che mi è successo esattamente 4 ore fa Vero che questo qua mi ha attaccato Esattamente come ho fatto io poco fa E mi ha attaccato Mi ha tolto 2400 di nero Maledetto E guarda Vi faccio anche vedere il replay così Velocizzato tanto per Ma Mi ha veramente deluso Cioè come me Un attimo fa Deja vu Ehm Appunto ha attaccato il municipio Poi ha detto No no attacco il villaggio Perché c'ha il deposito nero E si è fatto le risorse Il maledetto Guardatelo qui Maledetto Con sti arcieri a livello 6 Che Ciupano via tutto E vabbè ragazzi Con questo direi che è tutto Ehm Il golem lo metterò appunto a far tra poco Giusto un po' di pazienza Logicamente non ci vuole di spendere 30 gemme Così Tanto per Una cosa che Richiede semplicemente due orette Ehm E niente ragazzi Direi che con questo video Anche oggi Siamo giunti al termine Qua c'è gente che fa richiesta Donazioni Tra poco leggiamo anche la vostra chat Tra l'altro Non so Molta gente non se ne accorge Ma c'è un clan Si chiama Ferro of Clan Non scrivetemi in descrizione Nei commenti C'è scritto in descrizione il nome ragazzi Quindi trovate sempre tutto in descrizione Come al solito direi che anche oggi Vi ringrazio per tutto il sostegno che c'è Sotto ogni video I commenti In descrizione Tutto l'aiuto che vi date E con questo ragazzi Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti